Allarme UE, un'Italia, alla Ungheria, di Orban, del perfido fascistoide della dittatura ereditaria, autoritaria e reazionaria. Gli aggettivi si sprecano veramente e le bugie, le bufale, se preferite fake news alla globalista, si sprecano anche quelle sull'Ungheria. Ma soprattutto tratteremo in questo segmento delle falsità sui legami tra Orban e la Meloni, almeno in questa fase per quanto riguarda la linea politica diametralmente opposta, distanze veramente siderali. Letta segretario del partito democratico, cosiddetto democratico, non ha un'Italia alla Orban e fin qui le solite cose. Sulla Meloni, quella dell'eroico popolo ucraino guidato dall'eroe di guerra Zelensky e al diavolo tutto quel discorso del sovranismo, del patriottismo contro le reti sovranazionali alla Sorosh Gherdi, alla società aperta Open Society Foundations. Tra l'altro, Sorosh che ha compiuto, ve la risparmio perché lo stomaco se no si gira, la foto su Instagram del figlio Alex, quello dei diritti LGBT con il padre, seduti per il 92esimo compleanno in un bel giardino curato, credo vicino a New York. Ha cercato di coprire le impronte, ma i fatti parlano sulla Meloni letta. L'Italia al cuore dell'Europa non può mettersi in una condizione alla Orban. Quale diavolo sarebbe la condizione alla Orban? Ma voi parlate dell'Ungheria con cognizione di causa, onestà intellettuale perché la conoscete? Ho per sentito dire, come vedremo proprio anche in questo segmento, come faccio vedere da anni, partendo da una regia comune dall'alto internazionale, cioè globalista occidentale dall'Inghilterra ma soprattutto dall'America democratica, la seconda. Il segretario mette al bando i nazionalismi e il diritto di veto che Orban, amico e alleato della destra italiana, usa per nuocere all'Europa. Mette al bando nazionalismi anche qui, nazionalconservatorismo, sì, ma perché è un germe il nazionalismo? Mentre l'internazionalismo di stampo magari marxista o neoliberale, quella delle società aperte di Soros per esempio, ma anche del World Economic Forum di Schwab, sono il bene assoluto? Perché dividere il mondo in bianco e nero e non vedere i pregi e i difetti di ogni questione, di ogni punto di vista? Perché la realtà è molto più complessa rispetto a quello che dice Letta, ma anche quello che dice Orban o Lameloni. È una scala di grigi, ci sono delle scale di grigi, ci sono degli aspetti positivi e negativi in ogni, veramente in ogni cosa. Certo, le cose divergono per quanto siano positive o per quanto siano negative, ovviamente. L'Italia ha il cuore dell'Europa, dunque l'Europa è una sorta di impero che dall'alto stringe per gli attributi, tiene per gli attributi l'Italia e la ricatta continuamente, ma questo lo sappiamo non per essere anti-europeisti o eurocritici, ma i fatti parlano chiaro, da decenni l'Italia non è sovrana, non è indipendente su molte questioni, a partire dalla leva monetaria con l'adozione di una moneta straniera, cioè l'euro. E poi l'altra cosa sul diritto di veto, il diritto di veto, voi non siete quelli dei diritti, voi non siete quelli della democrazia partito democratico, Orban esercita un diritto sancito nei trattati e non lo usa per nuocere all'Europa, lo usa per opporsi all'europeismo, suicida di Bruxelles e di gente, gentaglia se vogliamo, come voi. Vorrei, questo è il meglio, il migliore, l'altro rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, una sorta di ministro degli esteri, ormai lo conosciamo, socialista, per non dire di derivazione comunista, e loro parlano di diritti, libertà, come no, spagnolo. L'Ungheria è il punto debole dell'Unione Europea. Per quanto riguarda anche lui, sulle elezioni italiane del 25 settembre, potrebbe succedere, dice Borrei, che l'Italia prenda le posizioni di un'Ungheria qualsiasi, si avvicini a Orban. Ma l'Ungheria non è un problema, perché anche sul veto energetico, l'Ungheria conta solo per il 6% delle importazioni. Cioè, questa è una vera comunità dove ci sono membri tutti uguali, non ci sono schiavi, servi, sudditi, vassali. No, assolutamente no, siamo tutti uguali. L'Ungheria non conta nulla. L'Italia conta un pelino di più, perché è il paese fondatore, grande e quindi più importante, e poi ci sono le due o tre nazioni che comandano tutto. Ma questa è una comunità dei 27. Sì, sono a favore dell'Uxit, cioè dell'uscita dell'Ungheria dall'Unione Europea. Perché Orban non indice un referendum simile? Questo è evidente che ci sono di mezzo degli interessi. Siamo parassiti ai fondi europei? Già ci sono degli studi che dimostrano che l'Ungheria, dal mercato comune, che non sono solo i fondi strutturali, abbia dato più di quanto abbia preso negli anni. In che senso? La mano d'opera ungherese, sfruttata dalle multinazionali dell'Ovest, che hanno preso sgravi fiscali attraverso i fondi dati delle nazioni come l'Ungheria. Metà dei fondi dati all'Ungheria europei strutturali sono tornati verso Ovest. Certo, l'Europa così ha aiutato il benessere e la crescita dell'Ungheria. Dunque, essendo una dittatura all'Ungheria, tanto demonizzata, almeno Orban ha fatto gli interessi anche non solo suoi, della sua cricca, del popolo ungherese? Assolutamente sì. La distribuzione della ricchezza è stata giusta sempre? Assolutamente no. La perfezione non fa parte di questo mondo. Ci sono da fare enormi critiche anche in Ungheria. Ma l'Italia di Draghi, di Conte, eccetera, eccetera, indietro nel tempo, ha fatto, i vari governi hanno fatto, italiani sto dicendo, gli interessi veramente del popolo italiano, oltre che di chi stava al governo, al potere? Questo non credo, soprattutto negli ultimi decenni. Friedman sul presidenzialismo. Sentite questa chicca. Se deve essere come in Ungheria. Ungheria dove c'è una democrazia illiberale. Certo, è illiberale in quanto non liberale o neoliberale. È una democrazia cristiana, cristiano-democrazia, per meglio dire, e per natura, con costituzione cristiana, non liberale, dunque illiberale. Non dittatura, per questo, automaticamente. Con la soppressione della stampa libera, bufale, stupidaggine, non posso dire termini più duri, perché sennò parte tutto qui su YouTube. La stampa libera, ogni mio segmento dimostra che ce n'è quanta ne volete. La stampa è molto più libera e diversificata in Ungheria che in Italia, nella liberale e neoliberale Italia. Allora avremo un problema con l'Europa. Oh, che bello! Quindi l'Europa ti ricatta come un padre padrone dall'alto e ti dà le pagelline e ti dice quando sei democratico e quando invece non lo sei. Costituzionalisti come Marini, a DN Cronos la proposta di modifica della Costituzione in senso presidenzialista presentata da FD non trasformerebbe il nostro paese, l'Italia, in un regime autoritario all'Orban. Orban non è un regime autoritario. Il 3 aprile siamo andati a votarlo, anche io l'ho votato, proprio in Ungheria. Quindi il popolo, la maggior parte del popolo, la maggioranza ha votato. Dittatura della maggioranza. Se il PD prendesse la maggioranza il 25 settembre, invece, sarebbe democrazia e volere del popolo. Quello sì, sarebbe popolo. In Ungheria, caro Friedman, caro costituzionalista, cari questi qui, sulla 7, tra l'altro, che ho pure sentito in diretta, mi sono sforzato, non c'è il presidenzialismo. Non è che Orban ha strappato, ha buttato giù Mattarella come vorrebbe Berlusconi, nella deriva autoritaria. La Nova Kotlin, o prima Adar Janos, Presidenti della Repubblica, sono stati eletti dal Parlamento, Parlamento eletto dagli ungheresi. Ma di che cavolo di presidenzialismo parlate? Quello c'è magari in Francia, in nazioni come la Francia, che vi piace tanto, dove vince Macron col doppio turno. Orban Victor, poi, perché c'è una regia comune, l'Esecon, giornale globalista francese, provoca Orban continuamente l'Unione Europea sulla questione energetica dei veti, ma anche sulla questione del discorso di Tushvani, o Cintran Silvania, contro la società mista, eccetera, eccetera, eccetera. C'è i soliti ritornelli dal 2010 che però li sbugiardano con la questione Meloni, perché Meloni ha distanze siderali, ideologicamente parlando, su molte questioni, anche con i rapporti dell'Unione Europea, oramai. Dite a Letta, fate presente a Letta e agli altri europeisti italiani, che si sono scontrati due loro cavalli di battaglia, del loro programma, che vedremo più tardi, almeno così sinteticamente. Dei profughi medio-orientali, dei centri d'accoglienza in Svezia, nella perfetta progressista socialdemocratica europeista Svezia, hanno preso, hanno maltrattato, hanno fatto violenza contro chi? Contro quelli che sfilavano nel Gay Pride, LGBTQIAPK+. Più. Ma questo in Italia non si racconta, non succede nulla, naturalmente bufali di siti di estrema destra ungheresi, andate avanti con la vostra censura. Se volete sostenere questo tipo di informazione autentica, indipendente, il più possibile, autentica, onesta, di stampo nazional conservatore, potete farlo attraverso i due metodi indicati in descrizione. PayPal, anche mensile, come potete vedere, è bonifico bancario. Mi piace, condivisione, iscrizione, attivando le notifiche. Melonia Orban, giusto stare con l'Occidente. Ricordiamo un attimo quali siano le mosse negli ultimi mesi del capo di Fratelli d'Italia contro Fidesz, partito di Orban, contro la destra ungherese. Invita il leader, quindi Orban, a condividere le posizioni delle democrazie atlantiste, perché se non sei atlantista, magari europeista, filo Washington, se è automaticamente una dittatura asiatica. E voi direte, le posizioni di Orban con l'Est sono criticabili per quanto riguarda la Cina. Ci arriveremo e vi butto là una considerazione mai fatta in Italia. Ucraina, Melonia, Draghi, la risoluzione approvata fra l'Italia, rafforza l'Italia nel contesto internazionale, cioè quello occidentale allineato, globalista se volete, sovranazionale, internazionalista. La nostra nazione non può permettersi di essere l'anello debole dell'Occidente. Questa politica è veramente patriotica? È veramente per un'Italia indipendente sovrana, sovranismo, come si dice erroneamente in Italia, il sovranismo racchiude dentro varie correnti? Secondo me assolutamente no. Menzer Tomas, che è uno dei ministri molto importanti del governo Orban. L'Ungheria sta a fianco della politica cinese della Cina Unita per quanto riguarda Taiwan. Voi direte, sono letto la storia di Taiwan, la contrapposizione tra Mao, i comunisti e i nazionalisti sconfitti ritirati, sull'isola di Formosa, quindi Taiwan negli anni 50-40, fine della guerra civile cinese postcolonialista. E ci sono in mezzo degli interessi enormi economici degli ungheresi e dell'Ungheria. Questo fa il bene di Orban e della sua cricca? Sì. Questo fa il bene anche del popolo ungherese, del benessere del popolo ungherese, assolutamente sì. A che prezzo lo vedremo in futuro? Però, quando muovete delle critiche contro Orban per l'essere filo cinese, filo comunista, un regime comunista, anche se ormai ibrido, è entrato il capitalismo con dei monopoli di Stato, perché non dite la stessa cosa contro Bolsonaro, conservatore, brasiliano, ultraconservatore d'estremo a destra, fascistoide, anche qui, gli appellativi si sprecano, e invece ne parlate solo bene per la questione del virus, dei vaccini, ok, anche a me hanno fatto piacere le sue posizioni, ma perché lì il Brasile va bene, i BRICS, perché è nei BRICS in quell'alleanza fondata da Putin nel 2009, anche lì mistero della politica italiana che dimentica e ricorda all'occorrenza, questo succede sicuramente anche a me, non me ne accorgo. L'Ucraina, intanto, dite e raccontate a Letta che ci sono altre differenze tra Meloni e Orban, Orban non ha buoni rapporti con l'Ucraina di Zelensky, sentite l'ultima, l'Ucraina ha bloccato, poi adesso è stato riavviato, l'oleodotto che porta il petrolio uralico russo in Ungheria attraverso la Transcarpazia, quindi la parte finale del Drusba chiamata oleodotto della pace Boracchag, come riporta Rianovosti sono stati gli ucraini, sia stampa russa ma è stato confermato gli ucraini a bloccarla per un inghippo con le sanzioni e la molla ungherese che si occupa di idrocarburi ha pagato all'Ucraina e ha sbloccato tutto almeno per l'Ungheria. Questo in Italia non arriva assolutamente perché dell'Ucraina si parla solo in un certo modo come della Russia d'altronde. Qual è il programma? Come vede la stampa ungherese il programma del PD delle sinistre da contrapporsi alle destre che in realtà sono centro. Sentite questo titolo di Mondiner liberalizzazione delle droghe chiamate leggere matrimoni dello stesso sesso liberi quindi completamente riconosciuti magari anche utero in affitto chissà ius scole e poi ce ne sono altri la cittadinanza quindi da ricevere in modo più facile come se fosse un premio e non dovuto a del sangue che scorre nelle vene un'appartenenza etnico culturale ma questo è un discorso che in Italia viene visto come neonazista vero? E comunque andando avanti vi risponderei in questo risponderei a letta in questo modo delle dichiarazioni del presidente del Parlamento ungherese di Fides Savasandir Köver Laszlo Che cosa dice? Questo riassume un po' la politica equilibrista di Orban e spiega molto che negli ultimi nell'ultimo millennio più di mille anni all'Ungheria come nazione come popolo Nemzet sia all'Ovest che all'Est ci hanno educato alla vita in un certo modo hanno mangiato le nostre terre dalla nostra cultura sia da Ovest che da Est e dunque bisogna cercare di essere indipendenti è impossibile evidentemente per una nazione almeno oggi così piccola soprattutto militarmente una nazione che non è riuscita nel 56 per esempio a resistere all'armata rossa sovietica in cui combattevano anche ucraini lì l'America l'Occidente democratico liberale non è intervenuto proprio per evitare la terza guerra mondiale mentre in Ucraina per interessi di gas economici si interviene ma non direttamente perché noi di Fides noi della destra ungherese di Torosca eccetera siamo i vigliacchi che non vogliamo entrare in guerra dare armi quando in Italia anche fratelli d'Italia non manda i propri figli a morire in Ucraina loro sono i veri vigliacchi secondo la nostra visione della realtà dite a letta che un no gradi professore molto vicino a Orban gli Stati Uniti tengono sotto scacco occupano la Germania militarmente questo lo direbbe uno di fratelli d'Italia assolutamente no perché sono atlantisti americanisti è possibile un crollo dell'Unione Europea molto più probabile rispetto che l'Unione Europea la Germania si giri dica niente no se volete agli Stati Uniti perché gli Stati Uniti comandano in Europa Europa Unita che non è assolutamente indipendente come ormai non lo sono neanche i paesi membri che ne fanno parte purtroppo tra cui l'Italia molto più che l'Ungheria dite a Letta che il Ministro delle Finanze Slovaco ha detto su Twitter su Facebook su Twitter vedete qui in basso su Facebook credo gli ungheresi vanno l'economia ungherese va come un razzo mentre noi sembriamo ormai dei vicini poveri seghien e perché c'è stato l'investimento più grande della storia ungherese pochi giorni fa annunciato della Cina una multinazionale che produce batterie a litio per veicoli elettrici e non solo 7,34 miliardi di euro di investimento a Debrecen per una mega fabbrica è un investimento che dice Matovic credo che si pronunci così lo slovacco molto più grande rispetto a quelli fatti in Slovacchia per esempio dalla Volvo qui c'è tutta la polemica sulla nuova via della seta cinese e ci saranno chi ci saranno molti che criticheranno questa scelta ungherese l'Ungheria che però cresce economicamente partendo certo in una condizione svantaggiata rispetto all'overse europeo ma a ritmi ben più asiatici che dell'Unione Europea Index poi c'è tutta la polemica della flat tax dite a Letta che ci sono anche delle differenze energetiche con la Meloni rispetto a Orban Orban il viaggio di Siarto ministro degli esteri poco fa a Mosca ha portato una quantità extra superiore di gas proprio con gli accordi di Mosca da Gazprom e stanno arrivando delle quantità di gas in più in Ungheria l'Italia che invece anche con l'appoggio di Meloni si vuole liberare del tutto dalle fonti energetiche subito russe e invece appoggiare l'importazione per esempio di gas liquefatto americano che costa di più e ha delle spese riducce e dei rischi molto molto superiori rispetto al gas totto Druzba che arriva in Ungheria via terra grazie per aver visto questo segmento al prossimo tra Italia e Modio Orsag Grazie a tutti